Bentornato sul canale! Secondo unboxing, questa settimana abbiamo tanti unboxing, sono contento quando ci deve aprire le scatole, ma prima sigla! Ciao bentornato sul canale, io sono Marco, prima di cominciare questo nuovo video iscriviti, attiva la campanella, seguimi sui canali social e se vuoi guardati i livelli di abbonamento del canale, se vuoi avere dei contenuti extra o delle consulenze, vabbè, chiusa la parte relativa alla promozione. Video precedente ti ho parlato di cuffie, ovvero mi hai fatto l'unboxing delle Rode NT-H100, però le ho provate con il mio controller delle casse e delle cuffie, però, quando si parla di cuffie, si deve tenere presente alcuni aspetti molto importanti, quali? L'amplificatore per cuffie, e qui ne ho uno che aspettavo di provare da un sacco di tempo, ringrazio i ragazzi di MidiMusic per darmi la possibilità di testare questi prodotti, questo ragazzi è una cosa pazzesca, cioè, io era tempo che volevo metterci le mani sopra, sono felicissimo di potervi far vedere l'SPL, non devo dirti chi è, chi non è, chi cos'è, però, un'azienda di stampo tedesco, che fa tante belle cose, sicuramente tante belle cose, qualcuno lo conosce per il Transient Designer, è vero, non fa solo quello, e fa tante altre bellissime cose che spero di portarti sul canale, perché meritano. Comunque, il fatto sta che i ragazzi di MidiMusic mi hanno dato, oltre alle cuffie della Rode, anche il Phonitor One, perché mi hanno dato il Phonitor One? Per un motivo semplicissimo, perché per far funzionare delle cuffie, che siano le Rode e Pinco Pallino, quelle che vuoi, alcune volte i preamplificatori delle cuffie, delle schede audio, o comunque anche dei monitor controller, non hanno quel dettaglio, quella spinta, che ti permette di lavorare in maniera corretta, tra virgolette. Quindi, e poi andremo a vedere, mano a mano oggi, unboxiamo, come al solito, utilizzerò per un po' questi prodotti, poi dopo faremo una considerazione generale, in un prossimo video, su come lavora questo, e come lavorano le cuffie, sarà uno lì. Il fatto sta che, la particolarità di questi preamplificatori, c'è una cosa importante, allora innanzitutto, io vorrei aprirlo senza distruggere la scatola, scatola anche qui, bella, mi piace, mi piace, mi piace molto, io gradisco sempre molto i packaging, magari che si riescono anche ad aprire, mamma mia, impegnativo è questo. Ah, linguetta si è tirata su, è tedesco, si vede, bisogna tirare molto forte. Abbassiamo, come al solito, l'inquadratura. Scatola di un bel verdone, che probabilmente non si vede, perché sai che io non uso grandi telecamere per fare il video. Vediamo, vediamo, apriamo. Libretto di istruzioni in inglese e in tetesco. Ok, ti spiega gli ingressi, ti spiega un po' di cose, e va bene, fino a qua ci siamo. Adattatore dell'alimentatore, qui c'è il suo alimentatore e qua c'è lui. Vedi, tecnologia tedesca, pesa una tonnellata. Apriamolo. Vediamo al tatto com'è, com'è, com'è. Sì però, il cielo fa, lasciatemelo mezzo centimetro più largo però, eh. Perché, faccia tirare. Ammazzate. Mi sa che la plastica, sì. Ah ma perché ci sono le zampette sotto. Mettiamolo qua. Eccolo qui. Torniamo con l'inquadratura un po' più in su. Perfetto, eccolo qua. Bello. Benissimo. Eccolo. Si presenta come tutti i prodotti tedeschi. Solido, massiccio, imponente, nonostante piccolo. Manopolina del controllo, marchio SPL con un gommino in rialzo, switch delle due linee. Senti che bello. C'è proprio clac. E poi, ingresso per la nostra cuffia, è il crossfeed. Ti spiego poi cos'è il crossfeed. Qua hai due settaggi per le cuffie, quindi hai un dimmer meno 10 dB, puoi farlo entrare meno. Tasto di accensione, un DC. Due ingressi per le due linee, quindi un RCA e una linea jack. Io ho già preparato poi un cavo jack RCA, insomma li ho tutte e due. Quindi poi andrò a collegare la mia scheda audio. In modo da andare diretto, non passerò direttamente da un output della scheda audio. La costruzione è bella, mi piace, mi piace molto massiccia. Anche la manopola ha una gomma antiscivolo molto interessante. Però, qual è la cosa cardine, oltre a spingere bene il dettaglio che avrà sicuramente, perché questo è roba figa, c'è questa manopola qua, il crossfeed. Crossfeed, te lo spiego velocemente, poi quando lo utilizzerò saprò darti maggiori informazioni. Praticamente, prendilo con le pinze, è un controllo dell'apertura stereo delle cuffie. Ovvero, capita spesso che lavori con le casse, metti le cuffie, e ovviamente le cuffie cosa fanno? Destra e sinistra ti arrivano direttamente. E alcune volte manca la parte in mezzo, quindi la percezione che ti danno le casse del... Non dico il 360 gradi, comunque tu quando ascolti due casse, normalmente non senti sinistra e destra, senti tutta la sfumatura che c'è in mezzo. Questo controllino promette di fare quello, che se fa quello che dice, e ne sono sicuro perché SPL secondo me non mette in mezzo sul mercato roba che non sia di qualità, è un grosso vantaggio perché è vero che tu puoi mixare in cuffia e magari sentire qualche dettaglio in più utilizzando le cuffie, però non rischi di avere l'errore di avere troppo larghe destra e sinistra, quindi quello che tu senti alle casse dovresti riuscirlo a riportare facendoti la taratura cuffia-casse-cuffia-casse con questo crossfeed, quindi con questo mixerino interno dovresti avere questa cosa qua. Quindi sono molto curioso di provarlo, adesso lo andrò a montare, me lo metterò qua davanti così man mano che farò i test, una volta che avrò terminato i test di questo e delle cuffie, ti farò un super video e ti dirò come mi sono trovato, i pregi, i difetti, se ci saranno, non ci saranno, vediamo, e ne parleremo poi più avanti nel prossimo video. Quindi ti consiglio di iscriverti, attivare la campanella, seguirmi sui canali social e se hai domande e dubbi puoi contattarmi, oppure in alternativa ti puoi iscrivere, fare l'abbonamento al canale, darmi una mano a continuare a sostenere il mio canale e ad avere dei servizi in più esclusivi per gli abbonati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.